E' stata presentata alla stampa la diciannovesima edizione del Blue Bar Summer Festival 2021 di Francavilla al Mare. A Piazza Sirena tanti i presenti, a partire da Maurizio Rapino, cuore pulsante dell'organizzazione, l'assessore regionale Daniele Damario, l'assessore comunale Luisa Russo e il direttore artistico Maurizio Malabruzzi. A lui da anni l'onere e l'onore della scelta dei tanti artisti, che anche quest'anno scalderanno il cuore del pubblico presente nelle cinque serate previste. Con Maurizio Malabruzzi, direttore artistico storico del Blue Bar Summer Festival, inizio con una citazione, poi lei mi dice di chi è ancora una volta qui sul palco a raccontare la musica, la musica che è musa del nostro viaggio. È un lungo viaggio. È studiato, bravo, è studiato. Sì, sarà sul libretto, insomma, diciannovesima edizione appunto, come dicevamo. Sarà un'edizione ancora una volta forte, piena. Ogni sera ci saranno due concerti, ci saranno due concerti belli, ogni sera sarà un pathos diverso. Questo è quello che contraddistingue il Blue Bar. Avevamo degli ospiti stranieri che invece, come sapete, probabilmente sono stati bloccati dalle frontiere. C'era una quarantena di 40 giorni che era impossibile da poter effettuare. E il resto invece è grande musica. Nelle serate, sicuramente sono tutte serate belle, cioè affascinanti. La serata finale con Samuele Bersani che ha vinto il premio Tenco, quindi come al solito cerchiamo sempre di trovare un cantautore, qualcuno che ci racconta qualcosa, qualche emozione. Dolce Nera è nella stessa linea, sarà solo al pianoforte. Poi invece c'è Joe Bastianich, cattivissimo, invece sul palco diventa un tesoro e suona la storia della musica americana da Bruce Prince. Lui è americano, anche se è di origine italiana, però è americano. Poi ci sarà Tullio De Piscopo, non era mai venuto al Blue Bar. In 20 anni, 19 anni non era mai venuto al Blue Bar. Poi il ritorno invece degli Osanna, perché festeggiano i 50 anni. Poi ci sarà una produzione nostra, stranissima. Poi ogni anno cerchiamo di dare una produzione nostra, si chiama Quartetto Meraviglia. Sono le musiche del mondo riunite in un'unica serata. Insomma, siamo qua, siamo qua. Vi aspettiamo, ecco.